Nella ventinovesima giornata Miglianico e Nerostellati si affrontano in un match cruciale per la lotta salvezza. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta di Penne, vogliono uscire dalla zona play-out, mentre i pratolani, reduci da un buon momento, cercano il sorpasso ai danni proprio dei gialloblu. Dirige l'incontro Cavacini della sezione di Lanciano. Gli ospiti partono bene con Pendenza, che impegna in due tempi Ferrara. Al nono, la risposta dei locali con Di Moia, che, in contropiede, venne fermato così dai difensori. La primavera palla-gol arriva al ventiseiesimo, con Sosa, che trova la traversa con un bolide da fuori. La risposta miglianichese è nei piedi di Polisena, che salta tutti, ma al momento di calciare trova un difensore che spazza sulla linea. Al quarantunesimo si rompono gli equilibri. Onuaci, lanciato in velocità, fulmina Ferrara in uscita e porta i nero stellati in vantaggio. Il miglianico prova a scuotersi subito con Didonato, ma il suo destro si bilallato della porta difesa da Amo. Nella ripresa i locali si vedono annullare la rete del pari. Amo si supera su Polisena, ma non può nulla sul colpo di testa di Orta, il quale però, a giudizio di Cavacini, si trovava in posizione di offside. La decisione scatena le proteste dei locali. Noi vi lasciamo giudicare dalle immagini. Dal possibile 1-1 si passa al 2-0 Pratolano. Pendenza serve Papis, che in area non sbaglia. Sulle ali dell'entusiasmo, appena tre minuti dopo, Pendenza, da bomber di razza, scatta sul filo del fuorigioco e fredda Ferrara. Al ventitresimo è 3-0 per gli ospiti. La squadra di Tacchi non ci sta. Didonato va giù in area, per Cavacini è penalty. Dal dischetto, Capitan Battista è freddo e porta i suoi sull'1-3. Partita riaperta, ma solo per due minuti. Ancora Pendenza, su cross di Trozzo è implacabile e firma la sua doppietta personale e il 4-1 ospite. Il finale è un assedio dei gialloblu, ma al trentaseiesimo il classe 2001 Amo si erge a protagonista sul colpo di testa a 0 metri di Polisena. E si ripete un minuto dopo su Mario Horta. Nel finale, l'estremo difensore, con un colpo di Reni, salva sulla linea anche il colpo di testa di Cinquino, suggellando il successo dei suoi. Finisce così 4-1, con i nerostellati che scavalcano il Miglianico e rientrano nella bagarre per la salvezza diretta. Sconfitta Mara, invece, per i padroni di casa, attesi nella prossima giornata da un altro match rovente sul campo della Miternina. Sapevamo che venivamo qua per una partita da dentro o fuori. I ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla nel modo migliore. Siamo partiti subito forte. Tramite il gioco, quando potevamo, abbiamo giocato palla, abbiamo saputo colpirli nei momenti dove loro magari ci lasciavano più spazi. Quello non mi è piaciuto, il quarto d'ora finale, perché quando sei in vantaggio così, con il 4-1, non puoi regalare troppe occasioni e dare vita all'avversario. Se non ci fosse stato il nostro portiere, non so se sarebbe finita così. Però, insomma, bene per 75-80 minuti, poi dobbiamo imparare a gestire meglio la palla, secondo me. Il Prado l'ha comunque meritato, perché è 4-1 e 4-1. Però, quantomeno siamo stati vivi, perché abbiamo creato tante occasioni, non siamo stati bravi a concretizzarle. Loro sì, sono stati cinici e bravi. E niente, guardiamo avanti alla prossima partita. Il bello del calcio è che ogni settimana ti dà l'opportunità di rifarti. E noi aspetteremo questi sette giorni per andarci a giocare la partita midernina, per cercare di batterle.